Sogna Sars, terra consacrata, la via su palese, ciò che ha perso ritrovato, dimostra il tuo valore con un pronto desiderio, ghiaccio e terra, elettricità, fuoco. Ah, ora sono io che sento le voci. Che cosa significa? E come faccio a saperlo? Aspetta, sto pensando. No, no, sì, no, non importa, va perso, sono niente. Forse ci siamo persi qualcosa, forza, guardiamoci attorno.